Nella serata di ieri, personale della squadra mobile di Salerno ha arrestato un 33enne del posto per vendita di sostanze stupefacenti. Gli agenti avevano notato un continuo andiriveni di giovani che, dopo essersi recati all'interno di un rione della zona Carmine, si allontanavano frettolosamente. Il servizio di appostamento ha permesso di individuare l'appartamento del 33enne, presso il quale lo stesso aveva messo in essere un'attività dedita allo spaccio di stupefacenti. Le perquisizioni successive hanno portato al rinvenimento di 25 dosi, suddivise tra eroina e cocaina. L'arrestato è stato trasferito nel carcere di Forni.